Stiamo tentando di dirigerci verso il Rialto Sant'Ambrogio, o ex Rialto Sant'Ambrogio o futuro Rialto Sant'Ambrogio perché è stato chiuso dalla questura 3-4 anni fa con la motivazione di schiamazzi notturni e cose del genere ma oltre ad essere un luogo di schiamazzi notturni il venerdì e il sabato sera con le feste era anche un luogo dove tutto l'anno c'erano spettacoli teatrali la scena indipendente teatrale romana in qualche modo aveva un surrogato di posto per provare, per fare spettacolo quella era la sala teatro che ora vedete è sbarrata, il locale sottoposto a sequestro preventivo qui il cartello c'è da anni, c'è anche sul giardino, quello era il giardino c'era il bar qui ho provato io ma hanno provato anche moltissime compagnie insomma il Rialto nasce da un'occupazione all'ex cinema Rialto vicino a Piazza Venezia e poi il comune gli ha dato questo spazio e poi bisogna essere ragazza per questa verità diciamo ci sono i bagni in fondo e due salette dove si facevano le prove o piccole cose fondamentalmente lavoro da solo con poche persone di volta in volta a seconda delle situazioni cioè sarebbe veramente per la mia struttura, per la mia microscopica struttura organizzativa sarebbe veramente impossibile riuscire a avere tutte quelle giornate lavorative a dimostrare di avere questo e quello per avere eventuali finanziamenti anche volendo Siamo a Via Caetani, sarebbe stato bello riuscire a fare lo spettacolo su Aldo Moro qui in qualche modo tra il 16 marzo e il 9 maggio o meglio l'8 perché c'è tutto un discorso che sta anche nello spettacolo su Aldo Moro Aldo Morto Tragedia che è quello per il quale sono qui anche perché è in stagione a Palladium e c'è tutto un discorso nello spettacolo sul fatto che è vero Moro l'hanno trovato il 9 maggio è probabilmente morto il 9 maggio all'alba ma tutto sommato il 9 maggio è lui che gliene importava nel senso che l'ultimo giorno di Bisogni è l'8 in realtà si è svegliato e è morto il 9 quindi dire 55 giorni, dire che è morto il 9 maggio ha un senso relativo nel senso rispetto all'esperienza vista dall'interno del povero Aldo Moro infatti siamo arrivati passeggiando a Via Caetani proprio davanti alla lapide che ricorda che proprio dove c'è questa macchina grossomodo poco più in giù non mi ricordo e non mi ricordo perché non c'era fondamentalmente però a vederlo dalle foto e dai video dell'epoca però diciamo per me che la mia esperienza di di Aldo Moro in particolare ma anche della lotta armata in generale degli anni 70 non è di prima mano è tutta in base a ricostruzioni viste nei film a documentari più o meno attesi pensiamo all'utilissimo lavoro famoso di Zapoli la notte della Repubblica dove vedi in faccia le persone le senti parlare certo è un bel lavoro il giornalismo quello che ti pare però è chiaro che il punto di vista da cui sono intervistati tutti è quello che lo Stato finalmente ha avuto la meglio sui sovversivi tra virgolette che volevano rovesciare lo Stato senza lo dice proprio Zapoli sia nell'introduzione sia durante le interviste senza dover venire meno alle libertà democratiche eccetera eccetera questa è la tesi di base sedute le interviste è chiaro che tutta la notte della Repubblica è fondata su quest'idea che volendo se ne può anche parlare si può anche contestare rispetto all'utilizzo della tortura nelle carceri questo è il palazzo dove c'è la sede la democrazia cristiana ecco infatti se vedete nei filmati nelle foto d'Ebo c'è un scudo un scudo crociato è bello non sono entrato dentro ma è bello ma questo è sicuramente il palazzo della democrazia cristiana ma di là è ancora più interessante vista la vicinanza non per fare non voglio fare relazioni ma è solo divertente quello invece è il palazzo giustiniani e c'è la massoneria il palazzo della massoneria Italia del Grand Oriente mi sembra tra Aldo Morto e Hacerobot c'è una continuità c'è una relazione intanto tanto perché sono aumentati prendono le mosse dallo stesso anno dal 1978 i Hacerobot dico io avevo 4 anni arrivano i cartonati giapponesi c'era qui in Italia non mi ricordo la bottiglia esatta erano gli anni delle stragi del repimento di Aldo Morto delle brigate rosse delle versioni nera no del repimento di Aldo Morto la scesa di Silvio Berlusconi delle sue televisioni ma questo io non lo sapevo ancora né me ne importava un cazzo di Aldo Morto di Aldo Morto Grazie a tutti.